Grandi manovre intorno al suggestivo universo delle quattro ruote targate Mercedes, tutti gli occhi sono puntati su di un nuovo modello che ha chiamato ad attirare grandissimi attenzioni Andiamo a scoprire di quale si tratta Che la Mercedes faccia le cose alla grande, e seriamente, e sempre e comunque all'insegna della grande qualità produttiva, dell'affidabilità e della bellezza estantica, non vi è alcun dubbio Riuscire però a sollevare verso l'alto sempre l'asticella delle aspettative non è sempre facile, eppure, con l'ultimo modello, sembrano esserci riusciti Quello di cui stiamo parlando è il percorso di lancio della nuova Mercedes, infatti, spunta la nuova classe E, eleganza al top, qualità, prestazioni Ma di che novità e di che caratteristiche stiamo parlando? Proviamo a scoprirlo insieme con i primi suggestivi dettagli di questo nuovo corso Sono infatti tante, e intatte, le attese non già soltanto degli addetti ai lavori, ma anche se non soprattutto di tutti coloro i quali sono pronti a lanciarsi sul mercato per questo modello La nuova scelta della Mercedes dovrebbe davvero far luccicare gli occhi degli astanti Arriva la nuova versione della Mercedes classe E che dovrebbe giungere nel 2023 con una set di motori del tutto elettrificati Ma non è solo Che cosa bolle in pentola davvero? Anche le prestazioni e le performance sembrano infatti essere del tutto un rampa di lancio, ma non si tratta solo di questa Sono davvero tanti i rumans Come sempre le nuove uscite sono accompagnate, quale che sia la casa di produzione, da tutta una lunga serie di rumori In modo particolare, possiamo dire che alcune voci di corridoio hanno indicato il fatto che il V8 non dovrebbe più presente Questo cosa dovrebbe implicare? In linea di massimo, che la nuova auto seguirà la medesima strada verso un modello di ibrida più forte Grazie! Grazie! Grazie!